Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 303 tra Firenze e Impruneta, Incisa e Reggello. Sempre verso Roma, un km di coda per lavori tra il bivio colo variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Su questo tratto si segnalano anche rallentamenti per traffico intenso, ma in direzione Bologna. Sulla FIPILI per lavori, rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita, provenendo da Livorno. Si è verificato un incidente al km 50 e 500 tra Ponte Dera Est e Ponte Dera Ovest Ponsacco in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!